Le case che costano troppo, la vita che è andata alle stelle, Trefiletti mi racconta da mesi, da mesi, i panieri della spesa folli, guardate Roma. Alle stelle i prezzi degli hotel, per trovare una stanza occorre pagare almeno 400 euro a notte, c'è chi chiede fino a mille. Noi ancora dobbiamo arrivarci in camera e comunque si fanno schizzare alle stelle. Siamo venuti una volta al mese da gennaio e i prezzi proprio in questa settimana sono aumentati, raddoppiati, raddoppiati nel nostro caso. 200 euro a notte, ma zona non centrale. Speriamo bene che si danno una regolata su tutto, altrimenti non potremo neanche venire più a fare i corsi d'aggiornamento. Io pronto? Volevo sapere se c'è disponibilità per una singola questa sera. No, grazie. Se vi liberate a parlare con l'ufficio, prenotazioni, prenderemo. Volevo sapere se c'è disponibilità questa sera per una singola. Per questa sera sì. Però Roma mi sembra irraggiungibile. Ci sono gli internazionali ripensi, consideri da oggi, fino al 21 maggio. Ah, e quindi alzano i prezzi per gli internazionali? Per tanta richiesta, non c'è. Ma aumentato tutto? Eh, lo so, però così è per approfittarsene troppo. Guardi, fino al momento come è disponibilità mi è rimasta solamente una colina nella depandanza senza finestra. Senza finestra? Mmh, non ho più nient'altro. Il prezzo? 180 euro, signora. E colazione? No. 180 euro per camera senza finestra, va bene, grazie.